E si fanno belli incontri qui a Vinitaly di Verona, abbiamo incontrato Mattia Benedetta Da dove vieni? Verona Da Verona, quindi da tanto lontano dalla piedra Da molto molto lontano Che fai nella vita? Studio Tu? Lavoro Studio cosa? Scienze giuridiche Scienze giuridiche, oggi il vino aiuta a trovare la logica nel mondo giuridico? Sì, in vino Veritas